Musica 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 Prendiamo tutto Musica 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 Prendenza 30% Musica 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 ... ... ... ... ... ... ... Scusi un attimo, solo questa è la salita. È vero, è vero. Abbiamo rifiuto la bomba di mare, dove c'era quella strada che abbiamo sentito. Questa è la salita? Dove? Dove mi va? Questa è la salita? Questa è la salita? Questa è la salita? Questa è la salita che non si può riuscire. La salita sa la salita. Dove la salita? Questa, la salita è la salita che non si può riuscire. Alcune sono un'acchiazza che non si può riuscire con un corpo. Vedremo la salita? Grazie. Ci sono accetta. C'è una salita di fronte? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.